3 4 6 6 7 9 11 11 11 11 11 11 11 L'emergenza, prego. Dovete mandare subito gli agenti. Non perda la calma. La polizia sta arrivando. Incredibile! Polizia! Non muovete! Polizia! Oh! Ha 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 ha! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sono già pronto. Sì, sì. 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 Sì.